buona a tutti ragazzi sono erika g e oggi siamo su draw a stickman epic 2 si è un gioco molto carino che sul plistore non mi sembra costa 2 euro e 99 mi raccomando scaricatevelo e molto carino ho provato a giocare ora mi è piaciuto molto quindi ho deciso di farci un gameplay allora il gioco si basa su noi creiamo il nostro personaggio e dobbiamo guidare c'è uno stickman disegnato e dobbiamo guidare a sconfiggere il nostro nemico creiamo anche noi anche lui quello quindi invece di perderci in chiacchiere disegniamo il nostro amico allora lo facciamo che state di perché ragazzi non sono bravo a disegno ci facciamo un po più giù ragazzi non sono bravo a sconfiggere il nostro gambe facciamo anche tipo un mantello facciamo di un altro colore facciamo un rosso poi facciamo facciamo un cappellino da fighi mettiamo qua che scrive mai e poi facciamo e possiamo completamente personalizzarlo e questo è il bello la bella si sta in bocca vai e che ne manca ma in una mano una pistola cosa che sembra però aspetta ecco ma un usi un usi questa è la metragliatrice nella finissima di tia se l'andreas e nell'altra li facciamo un telefono così oltre a sconfiggere il mare guarda i video i messaggi ok il nostro personaggio faccio vedete oh ciao ciao mi sembra un nome ok questo saremo noi quindi lo chiameremo ricca giibo e gasante ma noi no mi chiamo ricca gi piace di conoscerti piacere ricca gi mi sento un po solo qui a merita disegniamo un amico ok ma con l'amico sarà il nemico possiamo anche farlo muovere guardate il figato il nostro personaggio aspettate un attimo che mettiamo solo un multimedio non rompono messaggio e tutto scusate se prendo un po piano allora il nostro amico lo chiameremo nemico sarebbe perché diventerà nemico facciamo verde sta bella c'è il marrone faccio una cosa bellissima si c'è il marrone no 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 dai no non torniamo troppo brutto troppo offensivo il nostro personaggio non fare la caca no no dai e docchi facciamo c'olesti un po triste facciamo dei forniti a bestie no sta male e poi dovete dirmelo voi se vi piace e vi facciamo anche gli occhiali no sta male gli facciamo che li possiamo fare raga scarpe viola gli facciamo tenere in mano c'è il verde c'è boh non lo so cosa fare sinceramente un nemico che non possiamo fare e facciamo in mano un joystick il pad boh potete dirvi ci devo fare la clor avevi fatto una partita del reato snoop dog no no io credo che un slip dog era troppo bello allora lo facciamo del colore marrone su perchè la sua carnagione un bel amore bello corto e facciamo il cappellino come non lo sappiamo vabbè non lo scriviamo il new yanks ma eeeh sono spoiler e vi facciamo gli occhi ho sbagliato un po' grattina la testa poi il cappellino occhi il meglio il meglio facciamo il meglio cannone wow ora snoop e poi facciamo il corpo tac tac e possiamo completamente personalizzare con tutti i rossi con snoop dog che li facciamo è chiaro quando mi seguono rocchi facciamo tenere in mano una grimata facciamo la corretto questo non è questo vai e poi con l'altra mano facciamo anche una cosa no facciamo tenere in mano un'altra sigaretta va no non scende non c'è molto vabbè facciamo così va vabbè chiamiamo snoop dog snoop dog fatto ecco ciao sono snoop dog facciamo il giro ok no sfida la passione boh è diventato cattivo è diventato cattivo snoop dog sta scappando in seguito Windows scoglie capisco ok vai 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 che sta facendo il nostro vi sto dicendo di libro ti permerò il nostro benissimo personale è un eroe è molto è ambientato bene è animato bene guardate che figata draw a stick man una missione per fermare Snoop Dogg guardate che figata il nostro Snoop con il nostro cannone gli esce fuori e anche ricca con il telefono e il mantello e anche lui con la sigaretta proprio con Tag Life e vabbè farò vedere un po' come è ambientato comunque se vi piace questa idea di questo gioco mettete un bel like e se non vi piace scrivete nei commenti cosa ne pensate ok abbiamo raccolto la prima matita si può usare la matita a foglia per riportare in vita gli alberi morti questo lo sapevo, lo avevo già fatto vedete che figata e anche portiamo a dire anche se ci bassino vuole vai fatto vedete se andiamo sull'inchiostro ci facciamo male oddio ti serve un po' di vita perché se non ricevi gli alberi ci danno tipo un cuore ma non ci ha dato niente bastardo ah qua bisogna guardate che alberi e che faccio ma sei proprio un pirma vabbè 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 inviangiamo che tanto ci salva minimale ok oddio oh mio dio il mega capone inizio mi dice all'inchiostro che così lui si perlisce e va aaaaa eee guarda di morì brutto schifo zhane ecco oddio Ricca, per una gnocca Vai 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 Fai di colpo eh Ah sì, capito tutto Interessante Capito molto Sì Questa si è capita, mi ha detto Elf Ah questo è capito molto Sì sì Vedo le spiegazioni scientifiche Morite Molto schifo Qua Previ, previ C'è di me Ah Capito tutto Sì E vabbè Oddio Qua ci sono tutti Sfollati Distrutti Lui è patata In grande Qui Ok Sono intrappolati Ok Ok Te l'iterò io amico Sì La linda è qua Ecco, noi disegniamo l'albero qua Vediamo un po' di inchiostro E lui non Il mega alberone Ehi Ah Prego Abbiamo Abbiamo fatto il ceppone Oh Merda Fa Cazzo che Che merda C'è tipo Un cartone Un cartone Un cartone Un terra Un frutto Posso Cazzo di Un Non Sfollati Pezzo niente la cosa fa un quadri di cristalli poi gli altri quadri di cristalli per avere finita ok però da di canetta faccio le retinate le prezze di pagina si capito e completato molto bellino mi raccomando che è molto molto carino cosa ci aspetterà ok abbiamo completato il capitolo solo per far vedere come è fatto questo gioco molto carino potete personalizzarvelo e potete creare chissà cosa un cocodrillo boh fate voi quello che mi pare e scariate lo si chiama draw stickman epic 2 l'hanno fatto anche l'epic 1 ma questo mi ispirava di più infatti molto carino e vabbè con questo vi posso salutare se vi è piaciuto il video mettete un bel like per farmi capire che vi piace così continuo questa serie altrimenti scrivetemi un commento altri consigli di altri giochi vabbè con questo vi posso salutare con un saluto da ricca g alla prossima grazie a tutti i nostri spettatori grazie a tutti i nostri spettatori